Il nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Le cose che facevo secondo te non è normale? No, non è posseduto. Una pazza? Se non è posseduto sono pazza. Lui non è possibile. Questo è un lavoro consagrante, non se ne rendono conto. Filippo! Sì, attento. Non lo riesco a controllare, quando succede, succede e basta. Io poi quasi manco me lo ricordo, davvero. Sì, perché io ho il terrore, vedi, quando ti dico di uscire, mi raccomando, stai attento. Perché devi stare attento, perché sai che non sembra il demonio. È il terrore. Sei mai andata da un psicologo per poter verificare che il problema non fosse a livello umano? Di conseguenza non possiamo dare la cura. E cominciando a fare un percorso intenso appunto di preghiera e liberazione, cominciare a avere prime manifestazioni. Mi sembra un vicente baltoniato, vero? Sì, sì. Qui dentro, in questo momento, possedute, ce ne sono sei, sette o otto. Mi volgo a te, Satana, principe delle tenebre. Ti maledico. Ti scaccio dalla mia vita. E stai zitto. Stai zitto. Ti rifiuto, Satana. Spirito maledetto e menzognello, Satana. Vai via. Determinati disturbi, che tu ci creda o non ci creda, esiste. Io non ero credente, quindi non sono successe queste cose. Eppure esistono lo stesso. Ti esorcizzo nel nome del Pantro, del figlio e dello Spirito Santo. Ti esorcizzo, Satana. Sì, ci sentiremo ancora. Intanto auguri di Buon Natale, fin da oggi.